L'obiettivo è quello di avviare un percorso formativo e consulenziale che porta ad un miglioramento complessivo nella gestione dei BNB. Open è il titolo del workshop che si è tenuto ieri in Camera di Commercio, evento organizzato dalla Banca Montepruno, la Camera di Commercio di Salerno e la Focus Consulting. Dopo gli interventi iniziali del Presidente della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete, del Direttore Generale della Banca Montepruno, Michele Albanese, e dell'amministratore della Focus Consulting, Giuseppe Livolti, un team di specialisti ha approfondito i diversi argomenti fra i quali le attività da realizzare per chi possiede una struttura già esistente e per chi ha intenzione di aprirne un ex nuovo, la legislazione necessaria agli aspetti fiscali, il web marketing. Ci siamo immediatamente resi conto che è un argomento nuovo, un argomento che sicuramente va esplicitato e quello dei BNB, degli affitti a camera, e che va sicuramente valutato con degli indici che spesso vengono non considerati. Come Banca Montepruno siamo sempre vicino a quelle che sono le iniziative turistiche e culturali di tutti i territori. In questo caso ci accingiamo veramente a fare qualcosa di positivo per la città di Salerno e per la provincia stessa. Numerose sono le attività che tendono in tutti i modi di aprirsi a questo nuovo mondo e lo facciamo con dei professionisti che ci daranno sicuramente delle risposte importanti sia dal punto di vista fiscale ma anche normativo e soprattutto ci daranno delle indicazioni che secondo me sono indispensabili per poter iniziare o meglio continuare quella che è un'attività che spesso viene considerata un'attività nuova, ma nuova non lo è. Lo dobbiamo fare con professionalità, lo dobbiamo fare con la capacità di saper ricevere le persone e questo è il massimo che la banca può aspirare, quello di dare professionalità alle proprie imprese confinto che poi si avrà un ritorno, un ritorno non solo di immagine ma soprattutto perché le aziende che lavorano e lavoreranno con la nostra banca avranno anche la possibilità di usufruire di professionisti che possono indirizzarli o meno su queste problematiche. Innanzitutto la nostra è una collaborazione che abbiamo da diversi anni, la banca Montepruno ci ha segnalato questa esigenza d'altronde ben supportata da numeri, cioè di una presenza importante dei B&B nel nostro territorio e quindi abbiamo colto immediatamente l'occasione per poter organizzare, grazie soprattutto a Banca Montepruno di Roscinio per l'impresa che noi rappresentiamo in Camera di Commercio questo evento. Un settore importante per la provincia di Salerno, un settore dove esprime importanti numeri soprattutto nella città di Salerno attenzione forte quindi della Camera di Commercio per il turismo. Ma sicuramente, gli ultimi dati che abbiamo da questi dati vengono fuori numeri importanti. Voi dovete considerare che solo quest'anno abbiamo avuto un incremento di presenze all'incirca di 40.000 persone che sono rimaste sul territorio portando un incremento di circa il 26%, quindi sono numeri importanti. Voi considerate che per quest'anno abbiamo previsto, questi sono gli ultimi numeri che abbiamo a disposizione, un incremento per quanto riguarda le permanenze presso i bimbi pari al 32%, è un numero all'incirca di 126.000 presenze.